Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo mio nuovo video oggi è 14 marzo e c'è l'incontro con Anthony Di Francesco che sicuramente tutti di voi conoscerete perchè è uno youtuber molto famoso e nulla, fa questo incontro a Roma, al centro commerciale e io ci vado, yeah però vi porto con me ovviamente vi farò vedere appunto vi farò questo vlog questo piccolo vlog della mia piccola esperienza che farò oggi e quindi spero che il video vi piaccia del cinema l' 1989 l'isimo l'isimo è una speranza l'isimo l'isimo che sia l'isimo entri qui sei contento? alz è lui ragazzi è lui sei contento? sei contento? la quant'ora spesi qua tolgo tolgo a anche il che pot v v v v v v v v Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.